OST 2021 continua. Siamo con Massimiliano Santicchia, il nuovo direttore commerciale di Blu Pura e che finalmente può presentare quanto sta accadendo in questo stand a OST 2021. Massimiliano, benvenuto. Grazie, grazie a tutti. Diciamo che questa fiera è andata molto bene, è proprio un momento magico direi perché ritorniamo un po' alle abitudini di sempre. Come tutti abbiamo un po' sofferto nel 2020 ma questo 2021 si è sentito che già partiva diversamente e possiamo dire che arriveremo alla chiusura dell'anno con dei risultati che sono superiori a quelli del 2019, quindi pre-covid, quindi molto molto bene. Per quanto riguarda la fiera abbiamo avuto tantissime visite e quindi siamo molto soddisfatti anche diciamo sopra le aspettative. Stiamo presentando due nuovi prodotti che alzano un po' il livello tecnico nel settore. Uno è un rubinetto, un rubinetto con l'intelligenza artificiale chiamato unico appunto per la sua peculiarità e l'altra è la Blu2Go, una macchina vending che oltre a distribuire l'acqua distribuisce anche borracce e permette di sanificarle, quindi avere tre business in una macchina sola. Allora diciamo io ti interrompo e ti rubo il microfono visto che sei un fiume in piena per chiederti in questi 18-20 mesi non c'è stata l'occasione per presentare attraverso eventi fieristici i vostri prodotti ma voi non avete terminato di effettuare ricerca e sviluppo. Cosa è accaduto dunque in Casa Blu Pura in questi ultimi mesi? Allora noi come appunto hai appena detto abbiamo continuato ad investire, investire sia in personale, assumendo ingegneri nell'R&D e quindi dando la possibilità al nostro R&D di espandersi e di sviluppare prodotti altamente tecnologici. Quindi questo è un po' quello che abbiamo fatto in questi due anni e anzi ci hanno permesso appunto di arrivare ad una ripartenza pronti e con dei prodotti magnifici. Ecco e nel frattempo tu hai descritto in modo sommario quelli che sono i due prodotti che avete presentato nel corso di questa manifestazione. Da dove nasce l'idea di questi due prodotti? Sì naturalmente è sempre un'esigenza di mercato. Per quello che riguarda questo nuovo rubinetto con l'intelligenza artificiale appunto unico nasceva da un'esigenza soprattutto nel settore aeroportuale dove ci sono i terminali e quindi attualmente i dispenser hanno delle limitazioni ovvero dal punto di vista sia della performance ma anche dal punto di vista della sicurezza poiché molte volte troviamo l'area in cui c'è il dispenser che è bagnata e quindi appunto ci sono dei problemi dal punto di vista di sicurezza. E la terza non tutti gli utenti diciamo riescono a interagire in modo corretto con l'apparecchiatura e quindi per sopperire a questo abbiamo pensato di trasferire l'intelligenza appunto sull'apparecchiatura e appunto l'intelligenza artificiale. Massimiliano nei prossimi mesi ci saranno altre novità in casa Blupura. Che cosa dobbiamo aspettarci per questo 2022 che sarà anche l'anno di Venditalia 2022? La fiera delle fiere della distribuzione automatica che ritorna dopo ben quattro anni. Noi siamo sempre stati considerati per la nostra peculiarità quindi di investire in innovazione e continua la ricerca e sviluppo cerchiamo di fare un po' il trend e quindi di un po' essere i precursori di quelli che saranno un po' i trend di mercato. Quindi stiamo già lavorando a delle nuove prodotti che adesso non voglio proprio spoilerare cosa sarà ma saranno cose molto interessanti per il mercato. Posso dire infine che il vostro lavoro è stato premiato ma premiato davvero perché tra le mani tu hai il premio Smart Label. Di cosa si tratta? Sì diciamo che è una competizione in cui tutti gli espositori partecipano e dove presentano i loro prodotti e appunto noi con il nostro unico con il rubinetto con l'intelligenza artificiale ci siamo giudicati il premio Smart Label e quindi siamo molto fieri che il nostro prodotto sia stato premiato perché significa che tutto lo sforzo fatto è stato riconosciuto. Devo dire in tutta onestà che ogni volta che incontro voi di Blupura avete tra le mani un premio. Sono ormai ben 4 o forse 5 anni che in ogni occasione siete tra i vincitori di un premio chapeau. Il vostro lavoro è davvero premiato. Sì grazie, grazie Fabio. Sì non ci adagiamo mai negli allori, ecco ci piace sempre sorprendere i nostri clienti e oggi essere un partner Blupura significa sempre essere il primo del mercato. E proprio a proposito di partner, chiunque desideri avere maggiori informazioni sui vostri prodotti e chissà diventare proprio vostri partner. A quale indirizzo può scrivere per avere maggiori informazioni e essere poi contattato dall'ufficio commerciale? Guardate basta che andate sul nostro sito internet quindi www.blupura.com e trovate la sessione contatti dove trovate tutti i nostri referenti di area. Attualmente abbiamo 8 area manager con altrettanti back office quindi una struttura commerciale ampia e molto dedicata che parla le lingue appunto le varie lingue della comunità europea quindi inglese, spagnolo, tedesco, francese e quindi possono supportare chiunque anche in lingua. Massimiliano grazie per il preziosissimo contributo. Grazie a voi e buona fiera. Grazie a voi e buona fiera.